Ciao amici di WrestlingItalia.it, come ti sono? Sono Queen Maya, la regina della ICW e del Wrestling Italiano. Volevo togliere l'occasione di questo grandissimo show by Vifties, non so se sentite il casino che c'è là fuori, per fare a tutti voi i miei più sentiti auguri di Buon Natale. Mi raccomando, seguite il Wrestling, seguite la Italian Championship Wrestling, ma seguite soprattutto il Wrestling Italiano. Noi vi aspettiamo Bordering, un grosso bacione dalla vostra regina.